Sì! Selly! Ma ciao, bel fiorellino. Ti capita mai di non sentirti a tuo agio? Quelli piccoli come noi dovrebbero essere uniti. Ti sposti, per favore. Oggi c'è la partita di campionato. Non mi sposto. Ho fatto la promessa di proteggerlo. Prendete posizione. Dite noi, vostri amici. Il dente di leone parla. Non scherzo. Non, anche tu. Ha molto da insegnare. Non resterai mai più da solo. Non sei mai perso nel grande universo. Vuoi sentirla ora. Questo dente di leone sembra significare molto per molte persone. La cosa giusta allora. Soprattutto per la mia sorellina. Soprattutto per la mia sorellina. Grazie.